Alice, vediamo che vince Fia e Luca, tutte e due, con Luca e lei, sono fidanzati però mi piace la tua. Ah, è fidanzata con Luca. Se non lo so il programma dovrebbe vincere Luca, mi piace molto. Brava. Anzi, deve vincere, non deve vincere Luca, assolutamente no. Vince Luca, no. Grazie. Grazie. Ciao. Luca. Mamma. Ehi, ciao, che fratiglio. Come stai? Bene, tu? Tutto bene. Siamo tutti Sì, sicura? Ah, sicura, al 100%. Ti passo tuo padre, non è grande, grazie alla mia. Ciao. 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 Pronto? Avvocato, come stai? Io sono andato, come stai? Tutto bene, tutto bene. Quando siamo molti orgogliosi di te lo sai tutti, mi mancava tanto, mi mancava tanto. E allora so che anche tu manchi a tutti noi, lo mettiamo tutti con te e ti auguriamo tutto quello che desideri, quindi in grande bocca a lui che ti attesi ad Alice. Grazie. Ti passo Francesco, ti bacione forte. Ciao Fabi. Ciao. Pronto? Eh beh. Allora? Tutto a posto. Hai visto dove mi è arrivato? No, dove sono arrivato. Non sei arrivato, non sei. No, no. Il nono, bene. Non è giustamente, lo sai, il nono, no. Cioè, il... Sei il fan, sei il fan primo numero uno. È il mio primo fan. È il tuo primo fan. Un club di Rente in bellezza perché ci hai fatto capire che è stato un percorso in bello, no? Bellissimo. Ali! Ali! Eccola! Ciao! Ciao! Come va? Come stai? Tutto bene? Ciao Fabi! Salve! Ciao, ciao Luca! Come stai? Come stai? Come stai? Benissimo, stiamo bene. So che vi sentite ogni tanto a Napoli. Perché abbiamo sentito, i genitori di Luca hanno detto che oggi mamma ha un chiamato a casa di Luca. Eh sì, la chiamata un attimo l'hanno spettacolato. Madonna! Della trasmissione, sono state delle brave scuole. Sì, bene, buona vera Luca, ma anche il tuo, dice, è stupendo. È molto, molto dolce con voi. Già, abbiamo fatto pianto tutti. Veramente, anche te hai pianto, va? Eh sì, anch'io pianto. Dai, ma che pensa? Dolce, bellissimo. Aspettavamo la telefonata, aspettavamo mezz'oretta e eravamo tutti assi. Eh, abbiamo fatto le prove in studio, ho cantato oggi. Oh, bello. Visto a divertirà un sacco, con l'orchestra, bello. Con l'orchestra? Eh sì. Bellissimo. È la minazza delle prove, quello che... Che... Che uscirà dalla tua voce, dai che sei in casa lì. Pronto, bellissimo. Ciao, fam, un bacione. Oh, ciao Luca. Baci. Baci. Baci.